in che anno siamo 1941 che giorno è oggi mercoledì credo molto bene con la massima brevità sa leggere nel pensiero affrettatevi e ammirate i misteri dell'universo ti darò il mondo e ciò che contiene di che cosa parli lettura del pensiero c'è una donna abigail oddio insegnami e insegnarti tutti hanno delle ombre nel loro passato ah tu porti guai vero e se ti dicessi che posso mettere su un numero a due per noi qual è l'oggetto che ho in mano un orologio da taschino esatto maestro stenton posso farlo io cosa c'è dentro la borsa una piccola pistola a lei non è indecifrabile come crede gestisce una troffa come me se mi aiuta noi possiamo lasciare un segno indelebile in città mi conosce appena lo so sei disonesta e lo so perché lo sono anch'io questo non è un trucco da baraccone se fai un passo falso cadiamo in due abbiamo avuto degli incantatori di serpenti in passato ce ne occupiamo che cosa hai fatto stai perché l'hai detto a volte non vedi il fondo finché non lo tocchi tu non inganni le persone stenne si ingannano da sole stai 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 Grazie a tutti.